Allora, mi chiamo Vincenzo Brutino e sono il Presidente del Consiglio d'Istituto di questo liceo. Diciamo che il mio secondo mandato è almeno quattro anni già che sto qua e sono all'interno e rappresento i genitori degli studenti che frequentano questa scuola e possiamo dire che in questi anni c'è stato non soltanto un progredendo dell'attività didattica e dei progetti di questa scuola. Quindi è un fatto importante che ancora oggi io sono qui e che rappresento il proseguo dei miei figli perché già quest'anno uno sta per andare via e ne è entrato adesso un altro. Quindi diciamo che è una continuità in questo. Iscriversi al liceo scientifico di Buomarina è importantissimo anche perché quest'anno c'è un ventaglio di aperture verso degli obiettivi molto importanti. Vedi le CDL, le PCDL, nonché l'alternanza scuola-lavoro, il corso d'inglese è importantissimo. Non per fare campanilismo ma certamente diciamo che spesso oggi si tende ad andare fuori il proprio territorio. Generalmente è un costume o dettato dai genitori o dal gruppo che si iscrivono tutti per esempio al Reggio ma vi posso assicurare che questa scuola è veramente importante e forma i vostri ragazzi in una maniera molto completa. Grazie a tutti!